Nell'atrio della Basilica di San Pietro, l'incontro tra Francesco e Benedetto XVI precede il gesto solenne dell'apertura della Porta Santa della Misericordia. Apritemi le porte della giustizia. Subito dopo, il Papa Emerito avvarcare la soglia ed accedere all'interno della Basilica di San Pietro. Davanti all'altare della confessione, Francesco invoca la tenerezza paterna per coloro che passeranno sotto la Porta Santa, perché testimonino con parole e opera il volto della Misericordia di Dio. Grazie a tutti.